Nei giorni scorsi Pamela Mastropietro avrebbe compiuto 23 anni, un compleanno che la ragazza romana barbaramente uccisa a Macerata non ha mai potuto festeggiare. Lo zio, nonché legale della famiglia Marco Valerio Verni, ha annunciato proprio in occasione della ricorrenza la nascita del Comitato Nazionale sulla Criminalità Etnica in Italia. Il Comitato si occuperà di raccogliere e analizzare i dati, le cause e le conseguenze e tutto ciò che possa riguardare tale fenomeno nel nostro Paese, collegato naturalmente a quello delle organizzazioni criminali autoctone e transnazionali. Nelle prossime settimane il Comitato si trasformerà in un osservatorio o in un centro studi dedicato a Pamela, la giovane studentessa romana trucidata per mano di un nigeriano condannato per questo in via definitiva. Questo lavoro, dice lo zio, sarà il ricordo di tutte le vittime di tale criminalità e dei loro familiari. Troppe volte abbiamo assistito a fatti di cronaca sottaciuti o non trattati nel giusto modo, salvo poi subire in ermi la strumentalizzazione di altri che, certamente gravi, non possono però assurgere a criterio unico per etichettare una comunità o un popolo intero come razzista o altro. L'Avvocato, portavoce del Comitato nell'occasione, è tornato a richiedere l'attenzione sul fenomeno della mafia nigeriana da tempo per lui oggetto di studio, per molto tempo negata nel nostro Paese o non riconosciuta o ancora sottaciuta, essa è un grave fenomeno le cui prime vittime sono le nigeriane stesse.